ciao e benvenuto a questo secondo video della serie intitolata consapevolezza ritmica siamo ai fondamentali le cose base adesso andremo a vedere col sistema che abbiamo visto nel video precedente per il gruppo da due il gruppo da tre ok quindi un sedicesimo ogni tre sedicesimi poi faremo doppi che vuol dire due note ogni tre sedicesimi per doppi si intende doppie note ok e le sue variazioni useremo sempre lo speed up per da 60 a 80 andiamo 1 e da 3 in data data da 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 Tadadadada ok anche per questo secondo video è tutto abbiamo fatto quattro volte ogni variazione del gruppo da tre singoli e doppi ci vediamo nel prossimo video con il gruppo da quattro ciao grazie